Buongiorno, in questa lezione parlerò di due concetti molto importanti riguardo alle reti e quindi alla navigazione nella rete internet o nelle reti locali, due concetti che sono legati alla velocità di fruizione dei servizi, la larghezza di banda e la latenza. Partiamo quindi dalle definizioni, definizioni rigorose, cioè la larghezza di banda, o in inglese bandwidth, di una rete e la quantità di dati trasmessa nell'unità di tempo. L'unità di misura è il BPS, quindi un BPS significa la trasmissione di un bit per secondo. Abbiamo ovviamente i multipli, quindi il mille, K, il milione, mega, BPS e così via, giga e così via. A differenza dell'uso solito in informatica, dove il K significa 1024 e così via i successivi multipli, qui nel campo delle telecomunicazioni la misura un K è esattamente proprio mille bit per secondo e non 1024 come di solito si utilizza anche per calcolare la capacità delle memorie e così via. Altra unità di misura molto usata nel campo delle telecomunicazioni, in particolar modo quando si parla di modem, è il BOD. BOD viene da Boudot, inventore nel 1870, inventore francese, del teletype, che introdusse l'idea di rappresentare un simbolo, per simbolo si intende lettere e numeri, con dei codici seriali binari, quindi il codice, un codice detto codice BOD. Ogni BOD o simbolo può richiedere 5, 7, 8, 9 bit binari. Sappiamo che il bit è quell'unità di informazione, il mattone fondamentale dell'informazione, che può avere valore 0 o 1. In questa diapositiva vediamo bene che cos'è il BOD e come funzionava. C'era una macchina, una macchina a nastro, dove vediamo il tratteggio più piccolo centrale nella figura in alto, serviva per far avanzare il nastro, e avevamo una serie di buchi o di pieni che venivano riconosciuti dai sensori, dai semplici sensori, e quindi praticamente leggevano lo 0 o l'1 relativo al simbolo di cui descrivevano. Vediamo in effetti nella figura a destra la parola HELLO data dal nastro con dei buchi o dei pieni nelle cinque posizioni, perché abbiamo detto che era un sistema a 5 bit, e più in giù invece abbiamo l'inizio, chiaramente ci sono tutte le lettere e tutti i numeri e i simboli principali, qua ho messo solo la parte iniziale per far capire che comunque ogni lettera e ogni simbolo poteva essere espressa attraverso questi 5 bit. Questo codice è stato usato fino al 1963, quando è stato superato da un altro codice, il codice ASCI, che si basa invece su 8 bit, e infatti abbiamo molte più possibilità, molti più simboli da poter descrivere attraverso, abbiamo esattamente 256 possibilità, esattamente 2 all'ottava, quindi 256 possibili valori che possiamo vedere nella tabella ASCI. Questa tabella, poi questo codice è stato superato dal Unicode, questo per riuscire a descrivere tutti i simboli di tutte le lingue straniere e altri simboli nuovi, e quindi abbiamo oggigiorno una possibilità infinita, e non è stato ancora utilizzato del tutto. Comunque questo è un altro discorso. Capiamo sempre meglio cosa è il bitrate e il bod. Allora il bit, abbiamo detto, l'unità di informazione che può essere 01, acceso o spento, rosso o verde, eccetera, eccetera. Il bitrate è il numero di bit trasmessi per secondo. Il bod invece è quante volte un segnale cambia per secondo. Abbiamo detto che un segnale lo possiamo codificare con un bit, con 5 bit, con 7 bit e così via. Se lo codifichiamo con un bit solo, abbiamo l'esempio della figura in basso a sinistra, dove il bod è 10 e il bitrate è 10 bps. Vediamo infatti che il segnale nell'immagine può essere o 0 o 1. Mentre nell'immagine a destra, in basso a destra, abbiamo che il segnale è codificato da 2 bit. Infatti possiamo avere 4 segnali diversi, 4 tipi di informazione diversi. Abbiamo 00, 01, 10 e 11. In questo caso abbiamo che il bod è sempre 10, mentre il bitrate è 20 bps. in questa figura vediamo due altre possibilità. Abbiamo il bodrate che è uguale ad n e il bitrate uguale a 3 n, nel primo caso perché abbiamo il segnale che è codificato da 3 bit, qua viene chiamato 3 bit, oppure nel più in basso abbiamo il segnale che è decodificato in quad bit e il bitrate è 4 n. Praticamente, adesso lo vediamo più rigorosamente, il bitrate non è altro che il numero di bit col quale noi codifichiamo il segnale moltiplicato per il bodrate. Quindi andiamo a completare il discorso di bitrate e bod. Il bit è la nostra unità di informazione, il bitrate è il numero di bit trasmessi per secondo, il bod è l'unità di velocità di segnalazione, e il bodrate è il numero di simboli trasmessi per secondo. Quindi rigorosamente arriviamo alla nostra formulina B, che sarebbe il nostro bitrate, uguale a S, che è il bodrate, per n, dove n è il numero di bit che servono per descrivere, per codificare un certo simbolo, che sia una lettera, un numero o un simbolo. e arriviamo quindi al concetto di banda larga che spesso si sente nominare. Beh, parlando di reti, possiamo dire che è legato a tutte le tecnologie, quindi le infrastrutture, le applicazioni, i servizi che consentono l'uso delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività. la larghezza di una banda di una rete, però, non deve essere equivocata con la larghezza di un canale, che invece è dato da un intervallo di frequenze in Hertz, o in multipli di Hertz, Gigahertz, Megahertz, e così via. Quindi parliamo anche di larghezza di un canale, e in questo caso è la larghezza in frequenza, in Hertz, e abbiamo che possiamo avere, normalmente di default, canali larghi 20 MHz, oppure scegliere sul nostro apparecchio router canali larghi 40 MHz. Di solito sono 20. C'è una serie di canali che sono disponibili, messi in successione, come vediamo nella figura in basso. Come sapete le reti Wi-Fi utilizzano due frequenze principali, la più utilizzata è quella da 2,4 Gigahertz, e poi abbiamo la più recente da 5 Gigahertz. E per ciascuna di queste due frequenze esiste un determinato range di canali disponibili. Questi canali in Italia vanno dall'1 al 13 per la 2,4 Gigahertz, mentre per la 5 Gigahertz sono a disposizione 19 canali. Nel caso della frequenza di 2,4 Gigahertz, abbiamo che la velocità teorica massima di rete è pari a 144.5 Mbps. Come si può vedere se la nostra connessione è buona, se la velocità reale è vicina a quella che il nostro provider ci ha venduto nella pubblicità o quando abbiamo fatto il nostro contratto? Beh, ci sono vari modi, ci sono dei modi empirici di laboratorio dove tu puoi caricare o scaricare dei file di una certa grandezza e misurare il tempo con delle apparecchiature in modo preciso, oppure molto più semplicemente ci sono diversi siti gratuiti, io ne ho raccolto il link di due di questi, speedtest.net e bandwidthplace.com che semplicemente possono essere usati gratuitamente per testare la nostra connessione. è meglio fare più di una prova anche perché la velocità di connessione può variare da momento a momento, anche se di solito non varia più di tanto. Qua possiamo vedere innanzitutto qual è la reale velocità sia di download che di upload. la velocità di download è sicuramente molto più alta per diversi motivi, il primo dei quali è che noi di solito utilizziamo la rete, utilizziamo internet per scaricare, scarichiamo film, video in streaming, scarichiamo file e così via. mentre l'upload, cioè il caricamento, lo usiamo piuttosto poco, quando mandiamo una mail, quando carichiamo qualche file nel cloud, però sono di solito delle azioni che si compiono molto meno spesso. e i valori che otterremo possono essere anche utilizzati eventualmente per richiedere fare delle proteste o richiedere al nostro provider di adeguarsi a quello che lui ci ha venduto nel contratto. Bisogna poi leggere bene il contratto perché nel contratto sono anche stabiliti dei limiti minimi di velocità di connessione, di larghezza di banda e su quelli noi possiamo eventualmente fare causa al nostro provider o comunque cercare di ottenere un miglioramento della connessione. Si può anche modificare la connessione tramite delle impostazioni del router o la cosa più semplice è fare il reboot eppure anche resettarlo. Però modificare le impostazioni del router sono delle azioni che devono essere fatte in modo oculato e inoltre sarebbe meglio anche salvarsi l'impostazione precedente che nel caso si può ripristinare velocemente. Qui molto semplicemente vediamo alcune informazioni vedete che il cruscotto del sito di Speedtest richiama un po' il contachilometri di un'automobile lì possiamo vedere la velocità, in questo momento è a zero perché aveva finito di contare ma se voi lo accendete all'inizio vi fa vedere proprio la velocità, vi calcola la velocità di download, in questo caso è 6.3 Mbps la velocità di upload che è 0.42 e il ping in millisecondi che sono 10. Il ping per chi non lo sapesse brevemente è la possibilità di contattare, di mandare un messaggio e ottenere la risposta dal numero IP della macchina che è connessa alla rete. Questo invece è molto simile al cruscotto dell'altro sito, Bandwidth Place anche qua abbiamo il nostro contachilometri e abbiamo la velocità di download e upload che è abbastanza simile all'altro sito qui diciamo è un po' diverso il numero, il millisecondi, il tempo del ping vedete anche che vi da altre informazioni, fra cui il numero IP della macchina da cui lo testate il vostro pc, oppure il vostro telefonino, il vostro tablet e così via e vi da anche il nome del provider al quale siete connessi in questo momento e a che server lui sta puntando in quel momento vedete che ha puntato al server, forse per quello anche il ping più lungo ha puntato al server nell'Europa di Helsinki in Finlandia quindi nel testare la connessione e nel vedere di migliorarla abbiamo tante possibilità attraverso il nostro router di modificare la frequenza di banda solitamente il nostro router si collega alla 2.4 GHz ma può anche collegarsi a quella da 5 GHz qua ci sono dietro tanti discorsi sapete che 5 GHz è un'energia nettamente più grande questo significa che cosa? che può portare molte più informazioni chiaramente però dall'altro canto ci potrebbero essere qua ci sono degli studi in corso alcuni studi che non danno chiari risultati però io ho un'opinione abbastanza ferma che più ci sovraccarichiamo di energie nell'etere e soprattutto di energie ad alta frequenza più possiamo avere danni biologici al nostro corpo e quindi raccomanderei di limitarsi soprattutto su una connessione che rimane accesa tutto il giorno io starei un po' attento al 5 GHz oltretutto il 5 GHz è vero che porta un numero di informazioni molto più alto però viene attenuato molto di più da elementi come possono essere l'amper del mobilio si è visto ad esempio che le piante le foglie delle piante i rami attenuano molto il segnale tant'è vero che in certi posti ahimè hanno tagliato alberi hanno tagliato le piante perché hanno visto che il segnale non riusciva ad arrivare fino alle case vabbè qua ci sono dei discorsi notevoli dietro che non è il caso in questo momento di farli comunque attenzione con le frequenze poi abbiamo la possibilità di ampliamento delle frequenze visto che abbiamo molti canali di navigazione per ogni ad esempio per la 2.4 GHz abbiamo visto prima e quindi possiamo eventualmente modificare il canale di navigazione utilizzato dal nostro modern router per andare magari in un canale che in quel momento è meno affollato dalla nostra rete wireless poi un discorso che va sempre sottolineato è quello della sicurezza quindi sicurezza della nostra password per la connessione di rete anche perché se c'è un altro utente che sta usando la nostra rete per connettersi ad internet chiaramente la nostra rete rallenta e quindi bisogna anche qui stare attenti a usare password complesse che abbiano una combinazione di lettere maiuscole, minuscole, simboli e così via e ogni tanto cambiarla non fa male d'altro canto c'è un altro discorso legato alla sicurezza spesso noi abbiamo i firewall ma anche i firewall incidono sulla velocità della connessione quindi potremmo avere un abbassamento della velocità della connessione anche dovuta ai nostri firewall altra misura di sicurezza aggiuntiva è cambiare il proprio SSID Service Set Identifier da quello di default o ancora meglio nasconderlo qua però bisogna fare un'attenzione cioè segnarsi bene tutte le impostazioni perché se poi ci vogliamo connettere alla rete attraverso altri dispositivi smartphone, tablet oppure viene qualche nostro ospite in casa nostra e si vuole connettere dobbiamo ricordarci di fornire tutte le informazioni l'SSID è il nome con cui una rete wifi si identifica ai suoi utenti praticamente quando voi accendete ad esempio lo smartphone e andate a vedere le reti o anche il PC e andate a vedere le reti che il vostro PC visualizza cioè che identifica nella vostra nello spazio circostante trovate praticamente tutti i vari SSID delle reti eventualmente raggiungibili chiaramente la maggior parte delle reti sono criptate quindi non sono e c'è una password che voi non conoscete il secondo concetto importante relativo alla connessione di rete è la latenza che è il tempo di percorrenza dei dati da mittenti a destinatario latenza lo possiamo anche tradurre dall'inglese come ritardo è dato dalla somma dei tempi di ritardo dovuti sia alla propagazione del segnale quindi dalla centrale operativa verso il nostro il nostro computer sia dovuto ai tempi di elaborazione introdotti dagli apparecchi in rete e gli apparecchi in rete principalmente sono switch e router chiaramente questo vedremo è un problema importante cioè una latenza grande provoca un malfunzionamento della navigazione quindi noi quando apriamo una pagina internet dobbiamo aspettare che si carichi piuttosto che quando dobbiamo mandare una mail oppure se carichiamo dei dati in una pagina internet e la rispediamo abbiamo nei casi di latenza elevata abbiamo un notevole ritardo e quindi un funzionamento lento questo diventa particolarmente critico nel caso di telefonate tipo whatsapp videotelefonate o di videoconferenze nei videogiochi online oppure nello streaming in cui possiamo avere anche delle interruzioni del servizio quindi il video si blocca oppure nelle telefonate ne parleremo anche più avanti abbiamo la sovrapposizione delle voci altro discorso concetto importante è la latenza che non dà molti problemi nella fase di download cioè scaricamento o upload cioè caricamento di file da internet mentre invece diventa una caratteristica importante nelle applicazioni in real time cioè in tempo reale quali sono le applicazioni in tempo reale abbiamo i videogiochi online piuttosto che i servizi che significa voice over ip due esempi per tutti il whatsapp piuttosto che skype e in questi casi la latenza risulta critica real time abbiamo anche altre applicazioni come il video on demand cioè i video su richieste e così via se la latenza è maggiore di 150 200 millisecondi abbiamo il fenomeno di talkers overlap cioè la sovrapposizione delle voci cioè ad esempio in una videoconferenza o in una telefonata whatsapp io parlo non sento il mio il mio destinatario che risponde quindi continuo a parlare ma nel frattempo lui ha iniziato a rispondermi e quindi le nostre voci si sovrappongono e non si riesce più a capirsi e c'è solo confusione ecco questo diventa chiaramente molto critico per capire completamente i due concetti di banda e di latenza possiamo usare una similitudine presa dalla fisica dei fluidi o dall'idraulica e quindi possiamo pensare ad internet come ad una serie di tubi cioè le connessioni fra i vari nodi di internet vederle come dei tubi e la nostra informazione è semplicemente l'acqua che scorre attraverso questi tubi abbiamo in questa similitudine che il diametro del tubo è la larghezza della banda quindi più grande è il diametro cioè più largo è il tubo e più può passare l'acqua ovvero i dati in un dato periodo di tempo la latenza invece la possiamo vedere come lunghezza del tubo più lungo è il tubo latenza più tempo richiede il viaggio dei dati tra due punti in queste due figure possiamo vedere esattamente quello che abbiamo detto se noi stiamo mandando ad esempio in questo caso una fotografia jpeg e abbiamo abbiamo una banda piuttosto piccola quindi abbiamo il diametro del tubo piccolo avremo che il nostro tempo di download cioè la latenza sarà piuttosto grande mentre d'altro canto se abbiamo un tubo molto grande quindi la banda larga riusciamo a trasmettere molti più informazioni per unità di tempo e quindi riusciremo ad avere un tempo di download molto più piccolo vediamo qualche velocità di trasmissione tipiche delle nostre reti delle nostre tecnologie allora abbiamo il modem analogico che ormai è obsoleto però tanto per avere dell'idea di come era la rete un po' di tempo fa aveva una velocità di 56 kbit per secondo le reti ADSL che sono le più diffuse hanno una velocità di connessione fino a 24 megabit per secondo le ethernet delle nostre LAN local area network arrivano adesso dai 100 fino a 100 megabit al secondo fino a 10 gigabit al secondo poi abbiamo le wireless con lo standard 802 11 e abbiamo da 54 megabit per secondo fino a 450 megabit per secondo abbiamo la telefonia mobile 4G sui 100 megabit per secondo un gigabit per secondo la 5G telefonia mobile fino a 10 gigabit per secondo e poi abbiamo la fibra ottica FTT si FTTH fino a un gigabit per secondo in questo grafico vediamo come la velocità dipende anche dalla distanza dalla centrale da cui parte il segnale abbiamo ADSL1 ADSL2 wireless vediamo che in tutte e tre comunque il segnale partendo dallo 0 a sinistra verso a destra con le distanze in chilometri viene attenuato cioè si perde si perde apprezzabilmente viene degradato mentre abbiamo con la fibra ottica una ottima velocità e soprattutto il segnale che resta praticamente perfetto non viene degradato quindi la fibra ottica permette di portare il nostro segnale anche a distanze molto elevate dalla centrale senza avere una diminuzione una degradazione della qualità del segnale e cosa non secondaria visto che lo accennavamo prima senza avere interferenze problemi di campi elettromagnetici e così via interessante vedere anche il consumo di banda vediamo che una chiamata può richiedere una velocità di download di 30kbps e fino a 100kbps una video calling molto di più perché il video ha chiaramente anche se di bassa qualità ma chiaramente richiede molti più dati fino a 128 300 una videochiamata di alta qualità arriviamo a 500kbps fino ad arrivare all'HD che arriviamo a tre volte tanto 1,5 mega bps anche qua però se è una videoconferenza e più persone ci sono più più velocità di download è richiesta quindi arriviamo anche a oltre 8 mega bps per cui vedete come cambia altra tabella interessante vediamo vari servizi con la larghezza di banda richiesta sempre in mega bps abbiamo l'alta definizione televisiva con una banda larga tra 16 e 20 la telemedicina meno il video on demand è 6 18 a seconda della anche qui della risoluzione abbiamo l'accesso ad internet che invece è molto inferiore 1.5 come anche una videoconferenza 1.5 e mentre la tv digitale abbiamo anche qui una quantità di banda larga utilizzata molto alta altro grafico che vediamo velocemente anche qui vediamo netflix come varia a seconda della risoluzione la larghezza di banda vedete da 576 pixel abbiamo solo 2 mega byte megabit scusatemi per secondo fino ad arrivare a netflix 2160 pixel abbiamo 25 megabit per secondo quindi notevolmente maggiore come altre ad esempio abbiamo anche i videogiochi online quindi abbiamo la playstation e così via altre l'utilizzo di altre applicazioni per giochi che anche qui richiedono una banda veramente larga arriviamo fino a 50 megabit per secondo e questi sono dati del 2018 anche qui interessante vedere come sono variati i valori in questi anni e come varieranno c'è la previsione fino al 2030 vedete che i vari servizi ad esempio la voce non cambia più di tanto perché la nostra voce viene codificata sempre allo stesso modo invece la telefonia con il video cambia notevolmente anche perché si sta andando sempre a definizioni maggiori come cambiano i videogiochi online vedete che addirittura la previsione del 2030 è 60 megabit per secondo video on demand addirittura arriviamo a 200 cloud computing 150 live streaming 160 praticamente sono valori estremamente elevati anche qua la rete e tutte le tecnologie dovranno adeguarsi crescere e riuscire a gestire tutta questa enorme quantità di dati per per tutti i servizi che avremo in questa bella diapositiva in questo bel grafico che non è così recentissime del 2015 però fa vedere molto bene le applicazioni attuali poi in tre anni non è che così in cinque anni non è che è cambiato così tanto la realtà anche perché spesso le previsioni sono sempre un pochino più in là col tempo rispetto a quello che si prevede comunque vediamo sull'asse delle ordinate il ritardo quindi ci da la nostra latenza in millisecondi e invece sull'asse delle ascisse la nostra velocità la nostra larghezza di banda data in mega bps andando sia verso l'alto che sia verso destra abbiamo praticamente tutte le applicazioni servizi che richiedono un ritardo più piccolo arriviamo fino al millisecondo e una larghezza di banda più grande arriviamo fino al gigabps sono le tutte quelle applicazioni e quei servizi per cui è nato il 5g ci sono i sistemi di guida autonomo la realtà aumentata la realtà virtuale internet tattile e parte diciamo di quello che viene inquadrato sotto la fabbrica e l'industria 4.0 parlando di banda tutti noi abbiamo visto in questi giorni in questi giorni in cui siamo in questo periodo difficile legato al coronavirus abbiamo visto delle prestazioni inferiori della rete un rallentamento di molte applicazioni piuttosto che non so vedere un filmato caricare scaricare in modo più lento questo perché stiamo utilizzando tutti molto più più banda per diversi motivi innanzitutto ci sono moltissimi remoto working tools cioè il lavoro remoto è utilizzato e tutti gli strumenti del lavoro remoto è utilizzato al 156% in più rispetto al mese precedente e 26 circa per cento in più della settimana precedente se guardiamo la settimana precedente al 9 marzo in più perché tutte le aziende quando è possibile stanno facendo lavorare da remoto in più abbiamo un utilizzo di zoom estremamente più alto pensiamo alle scuole pensiamo agli studenti pensiamo ad altri tipi di corso piuttosto che alle conferenze videoconferenze aziendali e anche qui abbiamo un più 78% di utilizzo rispetto al mese precedente e la stessa cosa con microsoft teams più 41% e inoltre abbiamo un accesso ad internet quindi che porta a quello che viene chiamato pure network latency cioè una una connessione un internet che è meno reattivo rispetto a quello che noi chiediamo o a quello che noi facciamo ad esempio in un videogioco vediamo ora i dati relativi al consumo di banda per l'Italia sempre in relazione ai mesi precedenti o all'anno precedente abbiamo un più 90% nel traffico dei dati un più 100% per quanto riguarda i spettatori di video per i social network poi abbiamo un 100% in più di video chiamate su whatsapp e messenger un più 75% di traffico per lo streaming streaming online e che soprattutto video a richiesta Netflix Amazon e così via abbiamo un più 112% di uso delle VPN la virtual private network utilizzate per l'accesso sicuro ai server aziendali e l'ora di picco in cui si registra il massimo traffico in rete e quindi il rallentamento maggiore l'abbiamo verso le 21 quando la maggior parte delle persone vuoi perché sono tornate dal lavoro vuoi perché hanno comunque finito il lavoro da remoto insomma c'è il massimo di afflusso per l'utilizzo afflusso di dati e trasmissione di dati per l'utilizzo di Netflix e altri simili servizi di video online per cui la rete è maggiormente rallentata utilizzata ecco due parole sull'uso delle VPN le VPN sono le Virtual Private Network sono come dice la parola delle reti private che vengono utilizzate dai lavoratori per il telelavoro ovvero il lavoro da casa tramite pc o altri strumenti in modo che il dipendente di una società di informatica o di una di un'azienda possa direttamente accedere ai database aziendali ovviamente questo questo discorso è molto delicato perché i database non devono essere raggiungibili da persone non autorizzate e la VPN è il metodo migliore per garantire questo viene spesso paragonata ad una galleria per cui è come se nella rete all'interno della rete internet ci fosse una rete o tante reti ognuno per una VPN diversa che sono inaccessibili agli altri utenti quindi una rete privata inaccessibile e inaccessibile perché è tutto criptato cioè tutti i dati tutto il traffico e i movimenti sono tutti criptati quindi sicuri e infatti vi dicevo si paragona come a una galleria che è accessibile solo dall'utente verso il database aziendale verso le applicazioni aziendali ma nessun altro può penetrare e chiaramente le VPN portano anche un utilizzo di banda perché la fase di criptazione richiede ovviamente una trasmissione maggiore di dati e quindi la stessa connessione di chi utilizza la VPN ma anche l'utilizzo delle VPN in generale nella rete provoca un po' come Netflix e come altri modi pesanti di utilizzo dei dati provoca un rallentamento generale quindi in questo periodo la rete internet è fortemente sotto stress per questo uso massiccio della rete oltre il normale ma il problema può anche essere che nella stessa abitazione quindi nella stessa rete wireless ci sono più utenti contemporanei perché mentre magari una volta il padre poteva essere al lavoro il figlio a scuola e così via adesso si ritrovano tutti a casa uno guarda un film uno fa un videogioco online magari la mamma invece vede dei video su Facebook e così via alla fine la nostra banda viene divisa in più utenti e quindi praticamente tutto il discorso ne soffre e abbiamo un rallentamento delle prestazioni della nostra connessione proprio per questo per cercare di ovviare a questo uso oltre normale della rete a causa del coronavirus c'è stata questa richiesta di passare dove è possibile a una definizione video più bassa e quindi nell'utilizzare meno la banda larga quindi questo si dice switch to standard ad esempio Netflix è venuta incontro a questa richiesta abbassando per 30 giorni il bitrate per limitare del 25% l'impatto del traffico sulle reti e quindi permettere alla rete di non degradare troppo il servizio e di non avere troppi problemi perché qualcuno ipotizza anche che la rete possa avere dei seri problemi anche proprio di blocco o di rallentamento ancora più forte rispetto a quello che si è visto in questi giorni i provider italiani dicono che va tutto bene che secondo loro riescono a resistere sicuramente in paesi dove la rete internet è meno sviluppata avranno problemi ancora maggiori come possiamo migliorare le prestazioni della nostra connessione internet? beh intanto possiamo dire che molto dipende dalla potenza del segnale del router wireless e quindi e quindi possiamo prendere dei accorgimenti molto semplici come mettere il nostro router al centro della casa in modo che possa quindi essere visto un po' dai dispositivi posizionati nelle varie parti della casa piuttosto che rimuovere ostacoli in prossimità del nostro router per favorire la trasmissione delle onde e quindi non so eventualmente togliere librerie mobili metallici e così via posizionarlo in una posizione il più possibile pulita a livello di ostacoli utilizzare apparecchi nel resto della casa apparecchi wireless che non lavorino sulla frequenza di 2,4 GHz perché chiaramente occupando la stessa frequenza avremo dei disturbi e un sovraccarico e questo possiamo vederlo non so per apparecchi come i telefoni cordless oppure altri apparecchi wireless per cui assicurarsi che non lavorino su questa frequenza se no modificarla e poi quindi anche se è solo importante in una direzione possiamo sostituire un'antenna definita ad alto guadagno dico che questo è importante solo per una direzione perché l'antenna ad alto guadagno è fatta in modo di proiettare le onde in un'unica direzione cioè se io in una casa ho un'unica stanza un'unica zona dove mi interessa la una forte potenza del segnale allora posso utilizzare questa antenna speciale sostituirla alla normale antenna del router e quindi riesco a migliorare di molto le prestazioni della mia della mia connessione altre misure di miglioramento delle prestazioni sono quelle di utilizzare un ripetitore wireless soprattutto se l'appartamento è grande soprattutto se i muri sono spessi soprattutto se l'appartamento è su più livelli ecco che il ripetitore wireless che quindi fa ripete ma anche rigenera cioè rinforza il segnale in potenza diventa fondamentale in questo caso è meglio comprare un ripetitore wireless della stessa marca del router un altro modo per migliorare le prestazioni è quella di agire sulle impostazioni del router sull'SNR che significa Signal to Noise Ratio indica il rapporto tra la potenza del segnale internet e quella del rumore ci sono vari modi di modificare questo quella di default tiene conto di una situazione media delle nostre case e delle nostre connessioni però in certe situazioni possiamo rafforzare modificare questo modificare questa relazione per aumentare la potenza del segnale un altro modulo accennavamo anche prima è cambiare il canale su cui trasmette la rete wifi i canali consigliati sono il numero 1, 6 e 11 quando stiamo trasmettendo sulla frequenza di 2.4 gigahertz abbiamo una larghezza di banda di 2.4 gigahertz altro altro modo per migliorare le prestazioni è quello di con il classico control alt cance entrare in gestione delle risorse e andare a vedere se per caso c'è qualche applicazione non desiderata che sta girando e che ci sta portando via una parte della nostra banda magari sta girando un antivirus o delle applicazioni in rete oppure abbiamo potremmo avere magari qualche applicazione che in realtà è un virus piuttosto che dei processi che vengono fatti partire in automatico ma che non sono non ci sono utili che non ci servono un modo semplice e banale anche se molti preferiscono passare sempre attraverso il wireless perché è più comodo perché avere un filo comporta sempre un piccolo disturbo in realtà il trasporto del segnale via cavo è molto migliore ecco perché delle volte collegarsi attraverso il cavo ethernet al nostro router piuttosto che la nostra playstation la nostra la nostra postazione di videogiochi online potrebbe avere una discreta discreta funzionalità migliorata grazie all'utilizzo dei cavi fisici piuttosto che dei del sistema wireless questo è conosciuto anche nella musica nella musica gli esperti finora hanno visto che un'ottima un'ottima cuffia a filo di alto livello è comunque migliore che non la più sofisticata cuffia wireless che magari come costi siamo lì ma l'irrendimento del suono è ancora migliore per il tipo a filo altro discorso altro filo completamente diverso sono le fibre ottiche accennavamo anche prima al fatto che le fibre ottiche hanno zero perdita di segnale per cui dove è possibile per farci arrivare anche il segnale fino alla nostra al nostro apparecchio fino a dentro casa ecco che la fibra ottica è un ottimo sistema per avere un ottimo segnale veloce e pulito vediamo in questo caso la nostra il nostro confronto fra i vari i vari sistemi ADSL VDSL VDSL e FTT H VDSL significa Very High Speed Digital Subscriptor Line e praticamente è una XDSL cioè una DSL più veloce che ha velocità molto superiori alla DSL vediamo vediamo in questo caso che la fibra fino a casa ha una grande larghezza di banda 300 megabit per secondo ma soprattutto vediamo che verso destra che ci allontaniamo dallo zero cioè dalla distanza dalla centrale il nostro segnale rimane perfetto come come all'origine mentre negli altri sistemi il segnale soprattutto dopo un chilometro e mezzo subisce una notevole degradazione eccoci quindi arrivati alla fine della lezione spero che il i concetti di banda larga e latenza siano abbastanza chiari abbiamo visto come la potenza del segnale del nostro router wireless verso il nostro computer influisce notevolmente sulla larghezza di banda wireless e come si può migliorare sia la larghezza di banda che la velocità di trasferimento aumentando la potenza del segnale wireless in vari modi abbiamo capito che possiamo anche intervenire per migliorare la banda la larghezza di banda ma soprattutto la latenza la latenza e il ping latenza e ping indicano la velocità della connessione mentre la larghezza di banda indica quanti bit quanta informazione per unità di tempo viene trasportata vi ricordate il diametro del tubo piuttosto che la lunghezza del tubo della nostra connessione con la similitudine dell'idraulica avere avere un ping che ha un tempo minore e una latenza minore significa molto per la nostra navigazione significa riuscire ad avere prestazioni di navigazione molto migliori cioè riuscire ad aprire siti web in modo veloce invece che aspettare del tempo ogni volta che si apre una pagina oppure che si mandano informazioni in una pagina e questo diventa particolarmente apprezzabile quando si eseguono giochi online o quando si vedono dei film in streaming piuttosto che quando si fa una telefonata tramite whatsapp o tramite skype o una videoconferenza non abbiamo parlato ma esistono anche dei programmi per ottenere la connessione più veloce che lavorano soprattutto sul discorso della latenza ci sono programmi anche gratuiti come latency optimizer free o anche TCP optimizer TCP lo ricordo è il protocollo principale tramite cui lavora internet e anche altri programmi però ho letto che esistono esperti che li consigliano mentre altri esperti che giudicano non sempre non sempre utili ed evidenti i risultati di questi programmi esiste anche un algoritmo algoritmo di Nagel per ottimizzare il traffico di rete e diminuire la latenza e ridurre il tempo di collegamento ovvero il ping verso host esterni questo lo si può fare andando a modificare alcune impostazioni nell'editor di registro di sistema però sono cose che sono abbastanza consigliate per utenti esperti e non sempre i risultati sono così buoni come in teoria potrebbero essere e abbiamo visto quindi vari vari modi pratici per migliorare la connessione e anche come nel futuro andrà a svilupparsi la tecnologia quindi avremo ovviamente sempre delle delle connessioni con una portata di dati quindi un bitrate molto molto più grande delle reti attuali ma anche tempi di latenza brevi per permettere delle connessioni veloci e funzionali io vi ringrazio dell'attenzione vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto arrivederci